Dopo otto anni e due nel senso di vincita di campionati, sono dieci anni che facciamo calcio abbastanza importante e questo dobbiamo anche ringraziare il nostro presidente Magri che ci dà la possibilità di lavorare con grande serenità. Un modello chiamato Virtus Francavilla in Serie D, la storia non si dimentica, non può essere cancellata e il vicepresidente Tonino Donatiello, con la solita umiltà, insieme al presidente Antonio Magri e l'ambiente biancazzurro si è calato da subito nella nuova categoria con ambizioni e obiettivi abbastanza chiari. È un campionato diverso da quello della Lega Pro, non ci dimentichiamo, come impostazione, come tutto però nel senso non dobbiamo più pensare a quello, dobbiamo pensare di fare bene, di risalire, di cercare di risalire che è molto 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 difficile, ci sono 5-6 squadre che nel senso ci dobbiamo scontrare, agguerrite e che vogliono tutti vincere e alla fine andremo avanti per il nostro obiettivo, perché la Virtus, diciamo questo lo posso dire, lavora come se noi lavoriamo in Lega Pro e lo stesso sistema e andiamo avanti cercando di fare bene questo campionato. Sulla nomina per il sesto mandato consecutivo di Vito Tisci come numero uno del comitato regionale della Lega nazionale di lettanti, Donatiello si esprime così. Ci aspettiamo sicuramente dei miglioramenti, sicuramente il presidente Tisci è all'altezza con tutto il suo staff di rinnovare tante regole, però io sono orgoglioso oggi di essere qua e rappresentare la Virtus Francavilla anche se diciamo in un campionato diverso come Serie D, però andiamo avanti perché dobbiamo sempre onorare lo sport e le società.